Io volevo rivolgermi sia alla Regione che all'amministrazione comunale, qui abbiamo anche il signor Sindaco stasera, e alla Gas Plus. Direi questo, che alla luce dei dati forniti da voi, Gas Plus, e dall'esperienza di altri impianti di stoccaggio italiani, da quanto è emerso questa sera, chiediamo l'interruzione completa del leader amministrativo riguardante la costruzione di questo impianto. Questo perché? Perché almeno fino a quando non si avranno dati certi che possono informare adeguatamente e quindi rassicurare la cittadinanza sulle paure e le perplessità sollevate questa sera. Nel caso ce ne fosse bisogno, ci rendiamo disponibili a procedere come fece ad esempio il comune di Pagna Cavallo, che ha citato prima il signore, prima di me, che in convenzione con l'Università di Bologna nel luglio 2008 ha prodotto un'indagine supplementare e quindi non di parte sull'impianto di stoccaggio che interessava la propria zona. Ovviamente questo costituisce una nostra proposta che vogliamo fare anche all'amministrazione comunale, che come sappiamo tramite le dichiarazioni del signor Sindaco sia già pronunciata affinché si abbia la garanzia al 110% sia riguardo alle condizioni ambientali e anche quelle che riguardano la sicurezza. Grazie. Grazie.